I vostri giudici della Cassazione prendono tre volte più che i giudici della Corte Suprema Americana. I vostri giudici sono pagati benissimo. Se mancano di soldi, dovrebbero guardare i loro salari. Il fatto è che è straordinario. 500.000 euro all'anno. Cioè, come i vostri ambasciatori a proposito sono legati ai giudici della Cassazione, quindi a Washington sono oggetto di enorme gelosia perché tutte le altre ambasciate dell'Inghilterra e della Francia sono morti di fame comparato ai vostri ambasciatori. Anche se c'è il paradosso che c'è il Presidente della provincia di Bolzano che guadagna più del Presidente dei Stati Uniti. E quindi non è solo giù in Terronia che sprecano i soldi. Però pagateli un po' meglio. Sono tutti sottopagati. 25.000 euro al mese. Non è della provincia di Bolzano. Questo gentiluomo di Bolzano, per governare la provincia di Bolzano, prende 25.000 euro al mese. Dovremmo provare a fare il cambio. Mi ha detto, Zingrari, che ogni vostro deputato europeo prende 25.000. Se vuole ci arriva. Quindi è pagato molto di più di tutti gli altri. Qui è molto interessante che non bisogna neanche invocare discorsi di corruzione o di furto perché i salari dei vostri governanti sono così enormi. Houston, Texas, un sindaco, 13 consiglieri, 3 milioni di abitanti. Molise, 300.000. hanno un problema. E' interessante. Un problema senza semplice da... Non vorrei fosse stato coperto. Com'era? Com'era? Dico che se tu metti insieme i salari dei consiglieri del Parlamento Regionali, come Sicilia, dei comunali, i presidenti, tutti questi salari messi insieme, tu vedi un'oppressione fiscale enorme sui italiani che causa il divario, qui i vostri operai sono pagati malissimo, perché quando il governo prende soldi da te, per darmi a me, che sono povero, questo è un wash out, è uguale nell'economia, ma se il costo di prendere i soldi da te e darli da me è così enorme come in Italia, questa è l'oppressione fiscale. Nessuno si occupa dell'amministrazione, dell'ordine pubblico, di fare niente, di fare crescere questo posto molto arretrato, invece si fa politica di questo fra di noi, diciamo così. Però ambito è una grande vittoria quando tu hai gestito.